Rosario Di Mare, domenica ci sarà una grandissima manifestazione all'insegna del ricordo di Loris e Daniele. Quali saranno le dinamiche con cui si svolgerà questo evento? Allora, domenica ci sarà una grande giornata, partiamo dalle 5 con le finali Under 12, alle 18 la finale Under 16 e poi ci sarà la festa con premiazioni di tutte le squadre dei tre tornei, delle tre categorie, con musica, eventi musicali, eventi culturali e mostra fotografica. Un movimento quindi culturale con tante iniziative volte al sociale, secondo te quale sarà la ripercussione per Pozzuoli? Allora, guarda, noi già abbiamo un grande successo durante le partite del torneo perché comunque ogni partita chiama 300-400 persone qui su gli spalti che magari passano una giornata all'insegna dello sport e dell'aggregazione ed è una cosa che comunque ci fa molto piacere perché ogni anno riscuotiamo lo stesso successo e quindi sappiamo di poter fare qualcosa di diverso per i giovani di Pozzuoli. Cosa significa questo evento in un momento in cui ci sono tantissime aggressioni che hanno per protagonisti dei giovanissimi, secondo te? Noi cerchiamo di distinguerci rispetto a queste persone che appena detto tu, facendo dello sport e dello stare insieme un modo per vivere la nostra gioventù perché questo è il modo di viverla e di richiamare l'attenzione attraverso anche lo sport dei bambini perché noi facciamo anche il torneo per i più piccoli che sono la cosa più importante perché è loro che devono capire il valore dello sport e dell'amicizia. Grazie. 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 Grazie.